Musica Musica Valeria Vale Stefano sarà a casa che si vede Stendere la mano Ma usciva Si ma sul target Il limbo Il limbo Musica Ok si è andato benissimo Forza, forza tutto E sono col tempo Bravo Alessandro Allora il tempo è 1 e 26 Bravo Alessandro Squadra Prossima squadra E' un ragazzo Olimpia Sparco Ciao Martina Martina per Olimpia Sparco No Ora i piedi dietro la linea Vuol giocare il jolly Il mossa e Martina No, sul no secco Angelo Niente jolly 3, 2, 1 Uno Si parte Salta Dentro la gomma Angelo Si dà Complimenti per le bimbe No Bellissimo Questi sono Proporzionali Non c'è niente Dopo arrivare Da che scelta A fumare sul robot Allora Guarda Si vuole Dio Dio No No Vino Trovare il piscina Magari Così non c'è Allora, hai fatto cascare la palla per quanto vuole, ma sei arrivato fino alla fine, questo è quello che importa, si va sull'asta? Sono tre giochi, il secondo è quello di bucare i palloncini con una testina, un'opola tipo, non devi tenere il bicchiere, vai dietro, non devi tenere il bicchiere, non lo tieni con le mani, 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 ok, ciao Mario, scopo all'altempo, ma abbiamo di assicurato, abbiamo di assicurato, 1 e 45, armato, bacino. FacADE Allora. Grazie a tutti.